No, un po' devo sentire per forza che... Però poco Un orecchio, un mezzo orecchio, sì, l'altro no Perché se prima ce la siamo cavata con il gattino che è uscito via e tu hai fatto Ah, accidenti Ora, o è lo stesso gattino di prima che è tornato dall'inferno per tormentarci Anche le inquadrature sono diverse, guarda, ti sta dando più step per farti assaporare Tipo non c'è l'inquadratura, quella là di prima, diciamo, dove vedi tutto il muro A me non mi piace più questa roba Dopo un'attenta analisi ho iniziato a pentirmi del fatto di aver iniziato Ma va a fare in culo bucchino, bastardo Grazie mille Grazie mille